Buonasera a tutti voi e grazie per essere venuti a questo che è l'incontro conclusivo del ciclo Leggere Dante per quest'anno. Speriamo naturalmente di replicare con altrettanta fortuna il ciclo l'anno prossimo. Essendo la serata di congedo devo esprimere alcuni ringraziamenti a nome della società dantesca e per i patrocini il ringraziamento primo è all'ente cassa di risparmio di Firenze e per il patrocinio ancora alla provincia e al comune. Il patrocinio alla provincia e al comune è un patrocinio assolutamente morganatico, quindi un grande onore per noi. Ma anche appunto per il patrocinio concesso a Siro Ferrone, direttore del Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo e membro della Commissione Scientifica del premio Francesco Mazzoni e a fiamma Nicolodi che è la presidente del Dams della nostra Facoltà di Lettere. Ringrazio poi gli altri membri della Commissione Scientifica, Renzo Guardenti e ovviamente Stefano Mazzoni. Ringrazio ancora per la collaborazione Matteo Paternò della Fondazione Rinascimento Digitale e tutto il personale del teatro. Quindi per l'organizzazione al personale della società dantesca, le nostre collaboratrici, Paola Laurella, Laura Breccia, Giovanna Puletti, Barbara Banchi, di cui potrei raccontarvi anche l'esame di maturità, ma adesso non è il momento, e Marisa Boschi. Ringrazio quindi tutti quelli che hanno collaborato qui in teatro alla realizzazione del progetto. Un ringraziamento particolare a Riccardo Ventrella, direttore del teatro della Pergola, e a Stefano Massini, collaboratore artistico, che sono entrambi i membri della Commissione Scientifica del premio Francesco Mazzoni. E quindi ringrazio ancora Marco Giorgetti, che è direttore e manager del teatro della Pergola. Vorrei adesso qui accanto a me Riccardo Ventrella e Stefano Massini. Prego. Grazie. Senza Ventrella e Massini non avremmo potuto combinare niente, o perlomeno molto poco. E quindi è parso giusto ricordare a questi nostri amici la società dantesca e conferir loro la medaglia d'oro della società dantesca. questa è la sua. Per farlo in trella e per farlo in trella. E' scritto dietro. Vi ringrazio molto per tutto che lo avete fatto per me. Grazie. Ecco, possiamo passare adesso alla motivazione del premio Aiaia Forte. La motivazione del comitato scientifico del premio Francesco Mazzoni Voci per il Poeta assegna il premio Aiaia Forte con la seguente motivazione. All'interno di quel meccanismo consumistico che anche nel teatro fa acclamare di continuo nuovi fenomeni per poi eclissarne frettolosamente l'astro, Aiaia Forte è uno dei non numerosi casi di promessa mantenuta. Un percorso significativo è il suo, tanto più rilevante, dal momento che si iscrive nel firmamento del teatro di ricerca, da sempre affezionato per sua stessa natura, a lanciare meteore di intenso ma brevissimo fulgore. Per Aiaia Forte tuttavia non è stato così. Le ragioni erano forse già chiare all'alba della sua carriera quando alla fine degli anni Ottanta debuttava all'insegna di Edoardo sotto la guida, che guida del mai troppo rimpianto Leo de Berardinis. Già allora le recensioni parlano di una forza scenica non comune, di una presenza carismatica che non si fa dimenticare. Nel DNA, nel suo DNA, c'è la forza materica del dialetto sposata al rigore apollinio della sperimentazione, nonché un istinto di animale da palcoscenico cui fa da contraltare una solida formazione cinematografica con tanto di diploma. Ecco allora che, forte di tutto questo bagaglio, Aiaia Forte comincia a salire sui meritati gradini, da Oneschilo Siracusano diretto da Mario Martone fino alle complesse numerose prove con i Teatri Uniti di Tony Servillo. I riconoscimenti non mancano a partire da un premio della critica per la sua superba Selimène del moleriano misantropo diretto allora da Servillo. Di Aiaia Forte va premiata qui non solo l'oggettiva bravura, ma anche e soprattutto il coraggio di interprete mai restì a scendere nella trincea di battaglie sceniche potenzialmente letali, come la celeberrima trilogia shakesperiana allestita a dieci anni orsono da Carlo Cecchie che l'ha vista a serie alterna recitare Gertrude nell'Amleto, Titania nel sogno e Isabella in misura per misura. E mentre la vetrina dei suoi premi si infittisce sempre più, Aiaia Forte mantiene inalterato la barra dritta del proprio discorso teatrale, passando con coriacea disinvoltura dai giganti della montagna a un troilo a Cressida di Luca Ronconi e ancora da un Evita Peron con Pappi Corsicato all'ultimo Testori in cui gioca una sfida alla pari con Sandro Lombardi. Prego, Aiaia Sass. Grazie. Dunque, a questo punto penso di aver esaurito la mia funzione di cerimoniere e non mi resta che lasciarvi alla lettura di questa sera che oltre Dante contempla anche Eliot, cioè uno dei poeti che maggiormente hanno lavorato intorno a Dante a partire da anni ormai remoti. Eliot, in uno scritto che mi pare del 29, si chiede se sia più importante leggere Dante e poi leggere quel che è stato scritto su Dante o se sia più importante non leggere assolutamente niente e cominciare appunto dalla critica piuttosto che dall'autore. Decide poi per l'autore ma con qualche esitazione. Di tutto questo comunque vi parlerà stasera il professor Riccardo Bruscagli. Prego, Riccardo. Secondo Eliot, Dante è un poeta semplice. Proprio così, un poeta facile a leggersi come Eliot afferma nel suo saggio dantesco del 29 in cui insiste sulla estrema facilità di lettura della poesia dantesca. Dante, poeta semplice, Dante, poeta facile. Naturalmente Eliot non ignora né sottovaluta la densità e a volte la letterale insormontabilità del testo dantesco e gli sa benissimo che spesso, come scrive, è necessario un intero paragrafo per spiegare tre versi e un'intera pagina di commento per chiarirne i riferimenti. Ne il suo è un Dante, diciamo, semplificato in cui cioè si mettano idealmente fra parentesi come residui ideologici trascurabili gli aspetti più ostici, dottrinali, filosofici, teologici della sua poesia. Tutt'altro. Nel suo saggio dantesco del 20 Eliot rivendica l'essenzialità, la consustanzialità del pensiero di Dante alla poesia di Dante. Afferma che la filosofia è essenziale alla struttura della poesia e la struttura è essenziale alla bellezza poetica delle parti e aggiunge è curioso che non solo i detrattori di Dante ma anche alcuni suoi ammiratori insistano nel distinguere tra poesia e dottrina di Dante. Il saggio, ho detto, è del 20 singolare coincidenza. Del 21 è il discorso di Croce sulla poesia di Dante. Quello che affondando il coltello nel testo dantesco la dottrina da una parte la poesia dall'altra applicherà sciaguratamente alla Divina Commedia il criterio della poesia e non poesia perpetuando nella nostra tradizione una lettura lirica dell'opera dantesca insofferente di ogni intrusione dottrinale bollata come di per sé in poetica. Ma non così Eliot che in quegli stessi anni invece quasi rispondendo a distanza al nostro critico filosofo rivendicava con forza a Dante la sua natura di filosofico poe di poeta dottrinale. Dunque un Dante semplice un Dante facile ma appunto non semplificato e non sottoposto per così dire all'espianto chirurgico del suo pensiero del suo midollo dottrinale. Anzi il cuore del Dante di Eliot sta nella rivendicazione proprio della natura allegorica del testo. La nitidezza la comprensibilità somma la chiara leggibilità del testo dantesco sta proprio nel fatto secondo Eliot che Dante ragiona e pensa per visioni. Come scrive l'immaginazione di Dante è visiva è visiva nel senso che egli viveva in un'epoca in cui gli uomini vedevano ancora visioni. Noi non abbiamo che sogni. Di qui l'appassionata difesa eliotiana dell'allegoria non come suppelletile antiquata o zavorra ideologica ma come mezzo essenziale attraverso cui i significati del testo ci vengono intuitivamente comunicati non come scrive ancora Eliot noioso indovinello o schema noioso di enigmistica. Per un poeta egli aggiunge allegoria significa chiare immagini visive non puri e semplici espedienti retorici antiquati ma mezzi per rendere visibile ciò che è spirituale. Dante più di altro poeta è riuscito a trattare la sua filosofia non come teoria ma in termini di alcunché di percepito. Insomma è evidente che anche Eliot come gli altri poeti di queste serate come Montale come Pasolini anche Eliot in Dante cerca in realtà se stesso e nella poesia di Dante un'annunciazione e una prefigurazione della sua propria poesia. Nell'allegoria dantesca Eliot rintraccia la sua propria poetica del correlativo oggettivo e trasferisce nel poeta antico la sua propria ambizione a parlare per immagini che siano veicolo oggettivato esternalizzato per così dire delle emozioni per ripetere la sua famosa definizione l'unica via per dare espressione artistica a un'emozione è di trovare un correlativo oggettivo in altre parole un insieme d'oggetti una situazione una catena di avvenimenti che sarà la formula di quella particolare emozione tale che dati i fatti esterni l'emozione è immediatamente evocata. promosso promosso così a padre della poetica modernista del novecento si può capire come Dante rimanesse sempre per Elliot come gli scrisse un maestro potrei fin anche dire il maestro così già nel saggio del venti nel cinquanta tornando sull'argomento nel saggio intitolato cosa significa Dante per me Elliot concludeva dopo tanti anni consigliere ancora la sua poesia come quella che ha avuto un'influenza più duratura e più profonda sui miei versi il che deve essere proprio vero se c'è chi ha scandito l'intera carriera poetica di Thomas Elliot secondo una sequenza diciamo dantesca distinguendo un inferno la fase di Wasteland la terra desolata del ventuno una fase intermedia un purgatorio intorno a Mercoledì delle Seneri e infine un paradiso i quartetti del 37-42 di questa sorta di commedia eliotiana ascolteremo stasera delle letture da due tempi estremi dall'inferno di Wasteland e dal paradiso dei quartetti Wasteland è poema dantesco fino dal titolo noi lo traduciamo in genere come la terra desolata ma è stato notato che Elliot potrebbe avere avuto in mente un'espressione proprio dantesca paese guasto paese guasto che nel canto quattordicesimo dell'inferno è Creta un tempo feconda e ridente ora squallida e abbandonata nelle cui viscele come ricorderemo si erge la gigantesca statua del veglio di Creta composta di vari materiali dalla testa d'oro ai piedi di argilla che simboleggiano la decadenza progressiva della storia umana è il pianto è il pianto del veglio di Creta che alimenta le acque sozze dei fiumi infernali l'ispirazione dantesca potrebbe dunque estendersi in Wasteland ben oltre la bella suggestione del titolo che il poema è in effetti una lamentela ritmica come la definì l'autore stesso sulla decadenza del mondo e sullo squallore della modernità la terra desolata è l'inferno contemporaneo una società devastata dove la primavera è crudele l'amore sterile il lavoro una squallida catena di schiavitù quotidiana è noto ed Elliot stesso sentì il bisogno di spiegarlo nelle sue famose note al poemetto che la cornice ideologica della terra desolata attinge a letture mitico-antropologiche che avevano profondamente impressionato il poeta a partire dal celebre ramo d'oro di Frege il nucleo mitico di Wasteland riattualizza la leggenda del Graal dove il regno del re pescatore è inaridito dalla siccità corrotto dalla malattia appestato dalla ferita misteriosa inguaribile del suo re un regno che diviene in Elliot metafora del mondo moderno dominato dal caos dall'anarchia dalla degradazione dei valori dalla futilità del quotidiano e dove nessun Parsifal si profila all'orizzonte per riconquistare il Graal e riportare fertilità e felicità nel paese guasto d'altronde questo sfondo mitico antropologico è soltanto uno dei piani di significato del poemetto che è interamente costruito secondo un sistema di collage di citazioni e allusioni spesso come è noto di assai ardua decifrabilità i primi lettori rimasero alquanto sconcertati di questo metodo arduamente allusivo e probabilmente di nuovo anche noi qui stasera c'è chi parlò di idolatria della letteratura di crescita parassitaria sulla letteratura di necrofilia letteraria ma è chiaro che Elliot vuole disorientarci e lasciarci smarriti e confusi in un mondo caotico e sbriciolato in cui dalla menzione dell'aprile crudele dell'inizio siamo sbalzati sulle sponde del lago dove affogò nel 1886 Ludwig di Baviera e dal salottino di Madame Sosostris la cartomante loquace imbrogliona che degrada l'alta funzione vaticinante della profezia antica sul ponte di Londra nell'ora mattutina in cui gli impiegati si recano al lavoro ed è qui come sentiremo che affiora la clamorosa memoria dantesca di questo episodio la Londra alienata del presente viene omologata all'inferno e le masse impiegatizie che attraversano il ponte di Londra sotto la nebbia bruna di un'alba d'inverno under the brown fog of a winter noon diventano il correlativo moderno del malseme d'Adamo battuto dal remo di Caronte squalidamente avviate al loro destino quotidiano di avvilimento senza grandezza oltre un tamigi trasformato in Acheronte contemporanea al capo opposto della parabola i quartetti nella prima lirica come sentiremo siamo a Londra nel 42 sotto le bombe tedesche è l'alba e si è appena dileguata l'oscura colomba dalla lingua fiammeggiante ovvero lo stormo devastante degli aerei nemici ne è rimasto il fumo degli incendi e sul suolo foglie secche che crepitano con rumor di metallo cioè i detriti del bombardamento in questo scenario mentre ancora bruciano intorno i residui della pioggia di fuoco nemica Elliot riscrive l'episodio dantesco dell'incontro con Brunetto Latini nel quindicesimo dell'inferno nel girone dei sodomiti condannati a correre senza sosta sotto il tormento di una pioggia di fuoco appunto memore di quella che distrusse Sodoma e Gomorra anche Elliot come Dante incontra qui un maestro o meglio molti maestri in uno come gli dice uno spettro familiare composito intimo eppur non identificabile in realtà molti nomi sono stati proposti per questo compound ghost Dante Arnaud Daniel Virgilio Milton Marlarmé ma è evidente che si tratta appunto di uno spettro che riassume in sé molti spettri la voce di molti maestri Dante udiva da Bunetto il giudizio sul proprio operato il riconoscimento del proprio privilegio morale intellettuale la profezia della propria espulsione da Firenze a causa proprio di quella sua diversità di quel suo privilegio nella fosca alba londinese Elliot ascolta invece un amaro ammonimento su ciò che lo aspetta alle soglie ormai della vecchiaia l'inaridirsi dei sensi la rabbia per la follia degli uomini la condanna avvolgersi indietro a giudicare il proprio passato pure la lirica si sospende su un filo di speranza c'è un modo per liberarsi dalla morsa del passato affidarsi al fuoco purificatore a secondare la severa lezione di una fede che esige il pentimento ma restituisce in cambio la certezza di una redenzione nel 27 come è noto Thomas Elliot si era convertito alla chiesa d'Inghilterra e la nuova persuasione religiosa svolge un ruolo fondamentale nel passaggio dal disperato squallore infero di Wasteland al paradiso di questi quartetti tuttavia l'incontro col compound ghost avveniva ancora nell'intervallo ansioso fra il bombardamento e il cessato allarme che è poi il suono di corno su cui si chiude la poesia e schiudeva niente più che uno spiraglio di speranza questa speranza diventa pegno sicuro di salvezza nell'ultimo pezzo che sentiremo la colomba discende qui la memoria dantesca è quella della parete di fiamma che Dante deve attraversare nell'ultima cornice del purgatorio quella dell'ussuriosi per liberarsi dall'ultima impurità e salire al paradiso terrestre dove lo attende il sorriso di Beatrice in Elliot il ricordo di quel fuoco dantesco che affina i purganti e li rende degni della beatitudine si sovrappone a quello del fuoco pentecostale qui la colomba che discende e rompe l'aria con fiamme di terrore incandescente non è più lo stormo di aerei nemici ma è la colomba dello spirito che rovesciando miracolosamente il senso e la funzione della pioggia di fuoco che la contingenza storica rovesciava sul pianeta devastato dalla guerra promette un futuro di bene e di pace è il fuoco divino che distrugge e rigenera esige mutamento interiore e come quello del purgatorio dantesco restituisce amore e infine un'ultima osservazione noi sentiremo i versi di Elliot necessariamente in traduzione la bella traduzione di Roberto Sanesi peccato certo per un autore che tanto fidava nella fascinazione uditiva del testo poetico meno peccato se si pensa che quella fascinazione uditiva era comunque sempre tramite per una visione e quella visione l'italiano di Sanesi la garantisce io credo quanto ai testi danteschi forse non è proprio vero che essi suoneranno ai nostri orecchi di moderni così semplici così facili ma certo sarà ancora una volta stupefacente sentire stasera che quella di Dante è ancora la nostra stessa lingua e che il nostro debito verso la commedia è non ultimo quello di parlare come noi parliamo questo debito e questo privilegio forse nessuno come l'anglo americano Thomas Eliot l'ha detto meglio e meglio definito scrivendo il prezzo che una letteratura deve pagare per avere un Dante o uno Shakespeare è che può averne uno solo i poeti successivi possono trovare altre cose da fare ed essere contenti se quelle che rimangono sono cose minori ma non sto parlando di ciò che un poeta è eccelso uno di quei pochi senza i quali il linguaggio corrente di un popolo con una grande lingua non sarebbe quello che è fa per gli altri poeti o di quanto impedisce loro di fare ma sto parlando di quanto egli fa per tutti coloro che dopo di lui parlano quella lingua che è la loro madrelingua sia che siano poeti filosofi statisti o facchieri delle ferrovie ringrazio l'amico Riccardo Buscagli vorrei così soltanto ricordare che la presenza di Elliot accanto a Dante rende questa serata in qualche modo ancora più solenne e mi ricordo che qualcun altro con me se lo ricorderà che l'ultimo appuntamento un appuntamento mancato purtroppo da Elliot è proprio con la città di Firenze e con Dante Elliot doveva venire a inaugurare il grande convegno internazionale del 1965 e invece poco tempo prima di vederlo a Firenze arrivò la notizia che appunto non era più tra i vivi fu sostituito in quella circostanza da un altro poeta un poeta francese Saint-Jean Perse è molto interessante notare che a chiusura di quel convegno parlò Montale e Montale per una parte non indifferente del suo intervento parla di Dante e Elliot per arrivare a una conclusione alla quale Elliot forse non era arrivato ma che in fondo si può intravedere nel saggio di Elliot come nel saggio di Montale e cioè che la poesia la poesia vera è cominciata con Dante ma è anche finita con Dante adesso vi lascio alla grazia e all'arte di Iaia Forte buonasera due parole hai acceso il microfono no pronto 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 niente no volevo dire che aspettando che si accende del microfono che io sono veramente onorata di questo premio perché perché mi rendo conto che non è un premio solo all'interpretazione ma un percorso siccome io credo ancora che un attore debba avere una pensione etica non debba essere soltanto un interno mi riempie ecco mi riempie di gioia e di onore poi sono emozionatissima non soltanto di leggere davanti a Cotala ascoltatori che mi terrorizza veramente ma sono emozionata perché l'idea di vedere tanta gente raccolta intorno a Dante Elliot è una cosa che mi emoziona perché in un momento in cui la cultura è così infelice per la nostra cultura per me questo è un atto di profonda civiltà e quindi mi emoziona vedere che ci sono ancora appunto che c'è ancora tanta gente intorno a delle cose che sono importanti e significative uso questo microfono no perché prima abbiamo un po' lavorato su quello per cui userò questo forse arriva grazie ed ecco verso noi venire per nave un vecchio bianco per antico pelo gridando guai a voi anime brave non isperate mai vederlo cielo i vegno per menarvi all'altra riva nelle tenebre eterne in caldo e in gelo e tu che secco sti anima viva partiti da cotesti che son morti ma poi che vide che io non mi partiva disse per altra via per altri porti verrai a piaggia non qui per passare più lieve legno convien che ti porti e il duca lui caron non ti crucciare vuolsi così colà dove si fuote ciò che si vuole e più non dimandare quinci fuorquete le lanose gote al nocchier della livida palude che intorno agli occhi avea di fiamme rote ma quell'anime che eran lasse e nude cangiar colore di battero i denti ratto che intesero le parole crude bestemmiavano dio e lor parenti l'umana spezia e l'oco e il tempo e il seme di lor semenza e di lor nascimenti poi si ritrasser tutte quante insieme forte piangendo alla riva malvagia che attende ciascun uon che dio non teme caron dimonio con occhi di bragia loro accennando tutte le raccoglie batte col remo qualunque sadagia come d'autunno si levano le foglie l'una presso dell'altra finché il ramo vede alla terra tutte le sue spoglie similmente il malseme d'adamo gittansi di quel lito ad una ad una per cenni come ogel per suo richiamo così se vanno su per l'onda bruna e avanti che siano di là discese anche di qua nuova schiera sauna figliuol mio disse il maestro cortese quelli che muoiono nell'ira di dio tutti convegnun qui d'ogni paese e pronti sono a trapassarlo rio che la divina giustizia li sprona sì che la tema si volve in disio quinci non passa mai anima buona e però se carondi tessi lagna ben puoi sapere o mai che il suo dir suona finito questo la buia campagna tremò sì forte che dello spavento la mente di sudore ancor mi bagna la terra lagrimosa diede vento che balenò una luce vermiglia la qual mi vinse ciascun sentimento e caddi come l'uomo cui sonno piglia aprile è il mese più crudele genera l'illada terra morta confondendo memoria e desiderio risvegliando le radici sopite con la pioggia della primavera l'inverno ci mantenne al caldo ottuse con immemore neve la terra nutricon secchi tuberi una vita misera l'estate ci sorprese giungendo sullo Stamberger sé con uno scroscio di pioggia noi ci fermammo sotto il colonnato e proseguimmo alla luce del sole nell'off garden e bevemo caffè e parlammo un'ora intera binger kain raussin samaus litoien hecht deutsch e quando eravamo bambini stavamo presso l'arciduca mio cugino che mi condusse in slitta e ne fui spaventata mi disse marì marì tieniti forte e ci lanciamo giù fra le montagne là ci si sente liberi per la gran parte della notte leggo d'inverno vado nel sud fu un anno che mi donasti giacinti per la prima volta mi chiamarono la ragazza dei giacinti eppure quando tornammo a ora tarda dal giardino dei giacinti tu con le braccia cariche con i capelli madidi io non potevo parlare mi si annebbiavano gli occhi non ero né vivo né morto e non sapevo nulla mentre guardavo il silenzio il cuore della luce madanzo sostri chiaroveggente famosa aveva preso un brutto raffreddore ciò nonostante nota come la donna più saggia d'europa con un diabolico mazzo di carte ecco qui disse la vostra carta il marinaio fenicio annegato quelle sono le perle che furono i suoi occhi guardate e qui è la bella donna la dama delle rocce la dama delle situazioni ecco qui l'uomo con le tre aste ecco la ruota e qui il mercante con un occhio solo e questa carta che non ha figura è qualcosa che porta sul dorso e che a me non è dato vedere non trovo l'impiccato temete la morte per acqua vedo turbe di gente che cammina in cerchio grazie e se vedete la carta a Mrs. Equiton ditele che le porterò all'oroscopo io stessa bisogna essere così prudenti in questi giorni città irreale sotto la nebbia bruna di un'alba d'inverno una gran folla fluiva sopra il London Bridge così tanta che io non avrei mai creduto che morte tanta n'avesse disfatta sospiri brevi e infreguenti ne esalavano e ognuno procedeva con gli occhi fissi ai piedi affluivano su per il colle e giù per la King William Street fino a dove St. Mary Woolnut segnava le ore con morto suono sull'ultimo tocco delle nove la vidi uno che conoscevo e lo fermai gridando Stetson tu che eri a male con me sulle navi quel cadavere che l'anno scorso piantasti nel giardino ha cominciato a germogliare fiorirà quest'anno oppure il gelo improvviso mi ha danneggiato l'aiola oh tieni il cane a distanza che è amico dell'uomo se non vuoi che con l'unghie di nuovo lo metta allo scoperto tu hypocrite lecteur mon semblant mon frère già eravamo dalla selva rimossi tanto che io non avrei visto dov'era perché io indietro rivolto mi fossi quando incontrammo d'anime una schiera che venia lungo l'argine e ciascuna ci riguardava come suol da sera guardare un altro sotto nuova luna e si ver noi aguzzavan le ciglia come il vecchio sartor farne la cruna così adocchiato da cotal famiglia fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò qual maraviglia e io quando il suo braccio a me distese ficcai gli occhi per l'occotto aspetto sicché il viso abrusciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto e chinando la mano alla sua faccia rispuosi siete voi qui ser brunetto e quelli o figliuol disse disse qual di questa greggia s'arresta punto giace poi cent'anni senza arrostarsi quando il fuoco il feggia però va oltre i ti verrò ai panni e poi giugnerò la mia masnada che va piangendo i suoi eterni danni io io osava scendere della strada per andar par di lui ma il capochino tenea com'uon che il reverente vada e il cominciò qual fortuna o destino anzi l'ultimo di quaggiutti mena e chi è questi che mostra il cammino lassù di sopra in la vita serena risposi o lui mi smarrì in una valle avanti che l'età mia fosse piena pur iermattina le volsi le spalle questi mapparve tornand'io in quella e reduce mia cap per questo calle ed elli a me se tu segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto se ben m'accorsi nella vita bella e se io non fossi sì per tempo morto veggendo il cielo a te così benigno dato t'avrei all'opera conforto ma quello ingrato popolo maligno che discese di fiesole abbantico e tiene ancor del monte del macigno ti si farà per tuo benfar nimico se se fosse tutto pieno il mio dimando risposio lui voi non sareste ancora dall'umana natura posto in bando che nella mente meffitta e ormaccora la cara e buona immagine paterna di voi quando nel mondo ad ora ad ora mi insegnavate come l'uonza etterna e quanti io l'abbia in grado mentre io vivo convien che nella mia lingua si scerna ciò che narrate di mio corso scrivo e servolo a chiosar con altro testo a donna che saprà se a lei arrivo tanto voglio che vi sia manifesto pur che mia coscienza non mi garra che la fortuna come vuol son presto non è nuova agli orecchi miei talarra però giri fortuna la sua rota come le piace e il villan la sua marra lo mio maestro allora in sulla gota destra si volse indietro e riguardò mi poi disse bene ascolta chi la nota né pertanto di men parlando vommi con ser brunetto e dimando chi sono i suoi compagni più noti e più sommi ed egli a me saper d'alcuno e buono degli altri fia laudabile tacerci che il tempo saria corto a tanto suono insomma sappi che tutti furcherci e litterati grandi e di gran fama d'un peccato medesmo al mondo lerci di di più direi ma il venire il sermone più lungo esser non può però chi veggio là sorger nuovo fumo del sabione gente viene con la quale esser non deggio siete raccomandato il mio tesoro nel quale io vivo ancora e più non cheggio poi si rivolse e parve di coloro che corrono a verona il drappo verde per la campagna e parve di costoro quelli che vince non colui che perde nell'ora incerta prima del mattino sul finir della notte interminabile quando ricorre la fine di ciò che non finisce poiché l'oscura colomba dalla lingua fiammeggiante era sparita all'orizzonte per tornare al nido mentre le foglie morte ancora crepitavano con rumor di metallo sopra l'asfalto dove non era altro suono fra tre distretti onde s'alzava il fumo incontrai uno che camminava ad agio e in fretta come se con le docili foglie metalliche verso melo spingesse il vento urbano dell'alba e lui non resistesse e come io affissi sul suo volto chino l'esame aguzzo con cui si affronta lo sconosciuto sotto nuova luna così tosto lo sguardo tu maestro morto conosciuto obbliato in parte ricordato e uno e molti il cotto aspetto bruno gli occhi avea ad uno spettro familiare composito intimo e pur non identificabile così io assunsi un doppio ruolo e gridai e un'altra voce udì come siete voi qui benché non fossimo io ero ancora lo stesso mi conosceva eppure ero qualcun altro lui un volto un forme ma le parole bastarono a forzare il riconoscimento che le seguì e così docili al comune vento troppo estranei l'un l'altro per non intenderci concordi in quel momento di intersezione quel tempo di incontrarci in nessun luogo senza prima né poi sull'astricato andammo in pattuglia di morti io dissi la maraviglia che più provo non è strana ma questo mi meraviglia perciò parla può darsi che io non comprenda non ricordi ed egli io non intendo ricapitolare le mie teorie le mie idee che hai dimenticato sono cose che han servito al loro scopo ora basta così sia delle tue e prega che le perdonino gli altri come io ti prego di perdonare le mie buone o cattive mangiato il frutto dell'ultima stagione e la bestia saziata dia un calcio al secchio vuoto perché le parole dell'anno scorso sono il linguaggio dell'anno scorso e quelle dell'anno venturo attendono un'altra voce ma poiché il passo non presenta ostacolo ora lo spirito inquieto e peregrino tra due mondi assai simili ormai così trovo parole che mai pensavo dire per strade che mai pensavo rivedere quando lasciai il mio corpo su una spiaggia lontana poiché ci occupammo di parole ed esse ci spingevano a purificare il dialetto della tribù e a indirizzare la mente a deduzioni e previsioni lascia che io ti riveli i doni riservati alla vecchiaia per coronare gli sforzi di tutta la tua vita per primo il freddo contatto dei sensi moribondi senza incanto e nessuna promessa da offrire se non l'insipido amaro di frutti di cenere quando l'anima e il corpo cominciano a distaccarsi poi la conscia impotenza della rabbia per la follia degli uomini e la lacerazione delle risa per ciò che non diverte più per ultimo lo strazio di passare in rivista tutto ciò che facesti e che fosti la vergogna dei motivi di un tempo svelati e la coscienza di cose fatte male fatte a danno di altri che una volta prendevi per esercizio di virtù e il plauso degli sciocchi ferisce la loro stima è una macchia l'esasperato spirito procede di sbaglio e sbaglio se non lo emenda il fuoco purificatore nel quale devi muovere in cadenza come in danza spuntava il giorno nella strada devastata e mi lasciò con un vago commiato e dileguò al risuonar del corno il giorno se ingiva come l'angel di dio lieto ci apparse fuor della fiamma stava in sulla riva e cantava beati mondo corde in voce assai più che la nostra viva poscia più non si va se pria non morde anime sante il fuoco entrate intrate in esso e al cantar di là non siate sorde ci disse come noi li fummo presso perché io divenni tal quando lo intesi qual è colui che nella fossa immesso in su in su le man commesse mi protesi guardando il fuoco immaginando forte umani corpi già veduti accesi volsersi verso me le buone scorte e virgilio mi disse figlio il mio qui può essere tormento ma non morte ricorditi ricorditi e se io sovresso gerion ti guidai salvo che farò ora presso più a dio credi per certo che se dentro all'alvo di questa fiamma stessi ben mille anni non ti potrebbe far dun capel calvo e se tu forse credi che io ti inganni fatti per lei e fatti far credenza con le tue mani all'embo dei tuoi panni pon giù omai pon giù ogni temenza volgiti in qua e vieni entra sicuro ed io pur fermo e contra coscienza quando mi vide star pur fermo e duro turbato un poco disse or or vedi figlio tra beatrice te e questo muro come il nome di tisbe aperse il ciglio piramo in sulla morte e riguardolla allor che il gelso diventò vermiglio così così la mia durezza fatta solla mi volsi al savio duca udendo il nome che nella mente sempre mi rampolla onde crollò la fronte disse come volenci star di qua indi sorrise come al fanciul si fa che vinto al pome poi dentro al fuoco innanzi mi si mise si confui dentro in un bogliente vetro gittato mi sarei per rinfrescarmi tante raiva all'incendio senza metro lo dolce padre mio per confortarmi pur di Beatrice ragionando andava dicendo gli occhi suoi già veder parmi guidavaci una voce che cantava di là e noi attenti pur a lei venimmo fuor là ove si montava la colomba discende rompe l'aria con fiamme di terrore incandescente le cui lingue dichiarano la sola remissione di peccati ed errori la sola speranza o si dispera sta nella scelta di rugo e rugo per redimersi dal fuoco col fuoco chi dunque scogitò il tormento amore amore il nome non familiare di chi con le sue mani tessè l'intollerabile camicia di fuoco che forza umana non può levare noi solo viviamo solo sospiriamo consumati da fuoco o da fuoco un po' un po' un po' un po' un po' un po' Grazie. Grazie. Tutto bene, mi sembra una bellissima serata, grazie a voi per aver partecipato e Deo Adiuvante ci vediamo l'anno prossimo.